Buongiorno, sono Roberto Orsignoli e dal team di gestione di Monefarm vi do la benvenuta al secondo video di aggiornamento per questa settimana. Una settimana decisamente interessante soprattutto dal punto di vista politico. Partiamo proprio con l'annuncio arrivato ieri, molto ambizioso da parte del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, circa un piano di stimoli molto ambizioso per i paesi dell'Unione Europea. Molto ambizioso nei numeri perché vede tramite i vari canali un supporto all'economia complessivo pari a 2.400 miliardi di euro, i 750 milioni tramite il Recovery Fund, 540 trames e fondi della Bay e Sure per la disoccupazione e altri ulteriori superiori a 1.100 miliardi messi a bilancio nel cosiddetto quadro finanziario pluriennale. Lo strumento con cui l'Unione Europea pianifica i prossimi 7 anni di politica economica. Si tratta di un momento molto importante, soprattutto per l'Italia che sarà probabilmente uno dei principali beneficiari di queste mosse. Inoltre è molto importante anche a un senso politico più ampio in quanto potrebbe segnare un primo sforzo per delle passività debito condivisa a livello europeo. Anche se per ora, ribadiamo, si tratta di una proposta che poi andrà discusso il 19 giugno al Consiglio Europeo. Quindi è solo una proposta, andrà deliberata, tempistiche ancora moderatamente lunghe. Ora spostiamoci su un altro fronte, molto più imminente, molto più ricco di spunti giornalieri, che è la partita scacchi tra Cina e Stati Uniti che continua a consumarsi su diversi tavoli. La corte canadese ha dichiarato legittime le richieste di estradizione da parte di Washington. Circa la detenzione del direttore finanziario di Huawei, ormai tributo agli arresti domiciliari a Vancouver da più di un anno e mezzo. Infatti il reato che le viene contestato al CFO di Huawei, frodi finanziari e violazione delle sanzioni americane contro l'Iran, costituirebbe reato anche per la legge canadese e questo potrebbe dare spazio alle estradizioni. Quindi al momento il numero due del colosso e campione tecnologico cinese rimane sotto arresti del miciliare a Vancouver. Quindi direi uno sviluppo negativo su questo fronte. Dall'altro lato abbiamo avuto un ulteriore sviluppo negativo con il governo cinese che ha definitivamente approvato le leggi per aumentare la presa sul gigante asiatico Hong Kong, alimentando ulteriori tensioni e direi largamente ignorando le pressioni americane e le proteste dei cittadini della città tutt'ora in corso. La Calla Bianca ha lato suo confermato come quindi non ci sono più i requisiti per definire Hong Kong una provincia indipendente dalla Cina e questo avrà sicuramente delle conseguenze economiche anche per la nota meno di questo status legale. Sua fronte interna americana abbiamo avuto ieri Trump che ha astramente criticato Twitter, il famoso social network, dopo che alcuni suoi tweet sono stati bloccati in seguito alla politica di fact checking, quindi un controllo implementato dalla società per assicurare la vernicità di quanto contenuto dei tweet degli utenti. La critica si è poi estesa all'arresto del mondo social e ora appare che sia nei piani della Casa Bianca una legge per ridurre la passività legale, le protezioni che questa società si riservano nel gestire i tweet degli utenti, quindi potrebbe alterare un po' il modo in cui utenti e piattaforme social interagiscono tra di loro. È uno sviluppo anche questo molto interessante perché ricordiamo che il settore tecnologico è il settore più forte dell'economia americana, sia dal punto di vista di crescita degli utili che dal punto di vista di crescita a livello di performance azionale e il rischio regolamentare, un cambiamento di contesto regolamentare è probabilmente una delle minacce più forti alle alte valutazioni di questo settore. Per il resto, a parte questi sviluppi politici, a livello dei dati economici non è stata una settimana particolarmente rilevante, non ci sono stati molti dati degni di nota, fanno accensione alcuni dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese dell'Eurozone uscite questa mattina, ma è leggermente all'isotto delle aspettative. Per quanto riguarda i mercati, anche oggi vediamo un performance positivo sui principali distini europei, l'andamento dei contatti decisamente sotto controllo dei principali paesi sviluppati e news, notizie sui continui sforzi delle grandi case farmaceutiche, anche tramite unioni e accordi tra di loro, circa la lotta al vaccino continua per gli investitori per ora a giustificare il livello di prezzi che ormai è tornato a quanto visto ormai a inizio marzo. Segnaliamo solo un leggero incremento dei contatti in Sud Corea che potrebbe essere un eventuale spunto da continuare a tenere monitorato. Direi quindi che per oggi e per questa settimana è tutto, tensioni Cina-Stati Uniti, regolamentazione dei colossi tecnologici sono i due fattori di rischio principali che stanno caratterizzando i mercati in queste giornate. Dall'altro lato una rinnovata coesione all'interno dell'Europa, anche se però non solo teorica, sembra per ora premiare i listini europei. Vi ringrazio molto per l'attenzione e vi auguro in anticipo un buon weekend. A presto! Grazie a tutti!